Dopo aver scelto queste proteine vegane partiremo per provarle perché non ho mangiato le proteine a mio giorno, quindi necessito di proteine e voi giusto ovviamente provare queste qua vegane, ora vi faccio vedere come fare. Guardaci perché sono una figa, si apre, ancora Natale, l'apriamo senza fare il casino. Allora sentiamo l'odore, devo dire che la consistenza va bene, tanto la posso sciogli subito, prendiamo il nostro shaker, mettiamo dentro la proteine, aspettate, queste proteine vegetali, vegan, cioccolato sono 30 grammi, tra cui 21 grammi e 4 di proteine, 0,2 di zuccheri e 2 di zuccheri, un serving, proteine salate, assaggiamole, ok, stisiamo, shaker, acqua, quanto basta, prendiamo il coperchio, chiudiamo, porte e shakerando. Eccoci, dopo aver finito di shakerare che si è tutto risolto dall'acqua, proviamole. Allora mi abbasso perché figa, c'è un figazzo qua. Comunque, eccoci sconto allestando l'acqua, eh. Come gusto il sapore bello denso, cioè chi piace denso, che liquidoso. Comunque, ve le consiglio perché sono buone e hanno quel sapore di cioccolato. E non sembra neanche che sono vegane, quindi molto buone, molto buone, le consiglio a tutti i vegani e alle vegane. 100% vegan, 80 grammi di prodotto, 21,4 grammi di proteine, 0,2 di zuccheri. provate, provate, intanto il cogi e sconto è sempre quello. Alessandro Acqui su Zoom. Poi inserite quello ai fini dell'ordine e riceverete altri regali che usciranno sotto. non so che cosa, però, dipende da quanto acquistate, escono pure i regali. Quindi, un saluto e a presto. Ciao. Ciao. Ah! Al prossimo video, cosa mai vi farò vedere pure queste.